Ciao Gianna Maria, come stai? Bene, bene, una giornata intensa con tante persone che vogliono incontrarti per parlare un po' di innovazione, che è sempre un gran piacere. Ecco, raccontami un po' quello che state facendo con Icocop, quello che in realtà anche stai vedendo qui in questa conference. Ma allora, adesso non ho ancora fatto il giro in dettaglio, però quello che percepisco è che c'è una grande spinta all'utilizzo dei dati, un grande avvicinamento tra mondi diversi, quindi il distributore che va online con l'e-commerce e l'industria che è pronta a riempire degli spazi e a usare il traffico generato dall'e-commerce come vetrina e come opportunità di ingaggio e di fidelizzazione dei clienti sulla piattaforma. Oltre a tante piccole realtà che in maniera molto mirata vanno ad arricchire l'esperienza d'acquisto. Fammi qualche esempio concreto di cosa che stai facendo anche tu. Allora, noi a livello di sviluppo stiamo puntando molto sul mobile. Per quanto riguarda la parte di grocery, il mobile non è ancora diventato il canale principale, per cui c'è ancora un 50 e 50 tra clienti che comprano su app e clienti che comprano da desktop, perché oggettivamente l'esperienza d'acquisto sul desktop rimane ancora molto più semplice. Quando tu parli di app e mobile per te sono quasi un sinonimo. Sì, parliamo di sinonimi. Diciamo che la versione mobile del sito è quella che oggi offre l'esperienza peggiore, perché abbiamo concentrato tutti gli sforzi sul rifacimento dell'app proprio per sfruttare la tecnologia dello smartphone e quindi tutto quello che offre. Al 100% e non nella web app. Esatto. E quindi, insomma, questa ancora modificazione delle abitudini, che sembra un po' rispecchiare quello che abbiamo visto in passato, è proprio perché uno è abituato chiaramente a utilizzarla da desktop e quindi rimane collegato anche lì. Sì, perché ci sono anche dei casi d'uso, nel senso che magari uno è in ufficio, in pausa pranzo fa la spesa. Nel ritaglio di tempo. Nel ritaglio di tempo. Oppure ho lì il carrello aperto e man mano che mi viene in mente qualcosa giungo. Nella tab. Esatto, nella tab con la spesa, con il carrello appeso. Che apro quando il mio collega non passa dietro di me. Esatto. Diciamo che l'applicazione invece è un po' più discreta e mi consente di farlo senza dover essere attento al collega che passa dietro. Però a parte questo c'è proprio un'esperienza molto più... Hai comunque una visione di tutto l'assortimento molto più semplice perché vedi molti più prodotti in un colpo d'occhio unico mentre sull'app devi cercarli un po' di più. Per fare questo, a livello di app, stiamo provando a compensare quindi il limite fisico di uno schermo più piccolo con un'interazione opposta. Per cui abbiamo un po' la pretesa e l'obiettivo sfruttando delle logiche di intelligenza artificiale o di motori di raccomandazione di ribaltare l'esperienza d'acquisto. Quindi passando da un cliente che cerca i prodotti scorre delle liste e li aggiunge al carrello ad una logica in cui è un motore di raccomandazione che pesca dei prodotti di interesse per quel cliente e il cliente con uno swipe verso l'alto, verso il basso decide se metterlo al carrello o no. Quindi praticamente diventa un'esperienza d'acquisto lasciami dire no brain dove io ho di fronte ai miei occhi lo smartphone e con il dito dico questo lo voglio, questo non lo voglio senza dovermi preoccupare di dover pensare a cosa ho bisogno. Ok, quindi non faccio una ricerca attiva ma faccio una scelta. Esatto, scelgo su una proposta che dovrebbe con delle simulazioni se il motore di raccomandazione ci becca perché ovviamente se mi propongo... Ti faccio vedere le cose che servono veramente a te o che hai già acquistato... Dovremmo essere molto in grado di accorciare tantissimo il tempo di acquisto. Il tempo di acquisto che secondo me è il principale KPI da monitorare perché se parliamo di un e-commerce come canale di risparmio di tempo e poi in realtà questo non è vero perché ci metto un sacco di tempo per andare a fare la spesa. Senti, invece il riacquisto automatico è molto simile a quasi un abbonamento, no? Cioè io mi metto nei panni di appunto fare la spesa o qualsiasi altra attività, diciamo, continuativa magari settimanale... Com'è il fenomeno? Qualche anno fa ero un grande sostenitore di questi modelli, no? Perché dicevo, ma il cliente compra sempre le stesse cose... In realtà forzare questo tipo di carrello quindi ripartire da un carrello standard rischia di far fare al cliente un'operazione di rimozione di quello che in quel momento non gli serve che crea un po' di frizione nell'esperienza perché a quel punto devi scegliere se risparmiare tempo cioè se perdere tempo nel togliere i prodotti o se perderlo per aggiungerli devi trovare il punto di equilibrio. In realtà poi abbiamo verificato un po' il tipo di carrello quindi abbiamo preso un campione di clienti abbiamo visto il livello di sovrapposizione dei carrelli e non era così alto cioè non parliamo dell'80% Parliamo comunque di una base sicuramente comune penso all'acqua, penso a degli elementi di fidelizzazione e anche di motivo di utilizzo del canale però poi da un lato la stagionalità dall'altro le novità dall'altro i lanci dall'altro le promozioni creano comunque una modifica parziale del comportamento quindi noi abbiamo una funzionalità di riordinare il totale carrello per chi veramente fa quelle cose però forzare in maniera estremamente proattiva questa logica può essere un po' un'arma a doppio taglio Ok, novità invece all'orizzonte cosa su cui state lavorando? Stiamo lavorando ad uno sviluppo un po' più omnicanale del servizio noi per Genesi siamo nati come una società dedicata per cui siamo una SRL dedicata al canale online e abbiamo avuto pochissimi punti di contatto ad oggi con la rete fisica quindi stiamo lavorando ad un'integrazione con i negozi siamo partiti dall'installazione di alcuni locker in prossimità dei punti vendita pensiamo che sia un'evoluzione naturale quella di attivare servizi di click and collect per dare al cliente un'opportunità in più di modalità di servizio della spesa online acquisto online e poi quando passo di lì vado nel locker e ritiro il punto vendita o ritiro anche all'interno stiamo provando a completare la mappa dei servizi che vanno da fare una spesa nel negozio fisico fino a uno delivery puro e questa è la cosa che vorresti raccontarmi tra un anno nella prossima edizione di conference o c'è qualcosa anche nel medio lungo periodo che l'anno prossimo mi racconterai? tra un anno ti vorrei raccontare che i soci perché noi in Coppa abbiamo i soci non abbiamo i clienti fidelizzati amano l'omnicanalità apprezzano la possibilità di fare la spesa nel negozio online e grazie a questa integrazione a questa chiara integrazione lo share of wallet è aumentato significativamente per cui quello che spendono con l'insegna cop è maggiore rispetto a quello che fanno senza l'utilizzo dei due canali molto bene grazie mille grazie a te